Sono un'operatrice sociale principalmente per lo sviluppo di comunità che si rivolge principalmente alle famiglie e ai giovani. Abito anche nei territori del progetto di cui vi parlo come Alessandra, forse presa un po' dal senso di colpa di avere le mani legate, insomma abbiamo attivato anche questa esperienza personalizzandola diciamo. Noi abbiamo fatto appunto nella fase 2 quando si è iniziato a prefigurare una possibilità di fare degli interventi di tipo educativo sociale e di fatto l'unica proposta che si poteva realizzare a giugno e a luglio erano i campi estivi. Abbiamo realizzato appunto questo questo piccolo campo estivo. In realtà dal campo estivo emergevano dei vissuti completamente diversi e quindi già al suo tempo si diceva che sarebbe stato un osservatorio importante anche in previsione dell'apertura poi della scuola perché era un banco un po' di prova ed effettivamente è stato così perché al di là della fattibilità e comunque dello sperimentare proprio sul campo che cosa significava mantenere la distanza con i bambini e pur promuovendo un valore educativo emergevano appunto nel nostro osservatorio dei sentimenti molto diversi da parte delle comunità in cui noi operavamo. In particolare c'era un discostamento notevole che credo sia sia si sia manifestato anche adesso a livelli estremi tra chi appunto non credeva nella pericolosità di questo virus e quindi magari non non intendeva partecipare ai campi estivi con le regole appunto imposte dalla normativa o non riconosceva la necessità di metterla di far mettere la mascherina ai bambini ad esempio e altri invece di di preoccupazione notevole ecco quindi di fatto dovevamo la mediazione era anche in questo e ci siamo trovati appunto sul campo senza avere di fatto gli strumenti se non se non navigare un po' a vista ecco quindi è stata un po' un'esperienza che ci ha aiutato a osservare quelle che erano i sentimenti della collettività che erano molto diversi anche eh verso un un servizio che è tradizionalmente riconosciuto come importante un un campo estivo appunto e in virtù di questo cosa abbiamo fatto finito il campo estivo abbiamo ragionato un pochino su come potevamo lavorare sul sul discorso della prossimità e creando però delle piccole occasioni eh che coinvolgessero anche le famiglie che non avevano per le per le varie ragioni partecipato al campo estivo e abbiamo creato questo progetto che noi abbiamo chiamato Chiappa Borgo e in sostanza sono dei laboratori diciamo itineranti dove vengono realizzati degli atelier combinati appunto delle letture ad alta voce che si attivano appunto su una richiesta da parte di almeno un gruppo di dieci famiglie e quindi noi eh chiedevamo diciamo ai borghi ai ai piccoli paesi alle frazioni decentrate della della comunità del dell'Appennino in cui insomma ci rivolgevamo eh di iniziare a condividere eh questa questo progetto e eh e di formulare una richiesta e eh anche di trovare un luogo dove i bambini potessero tornare eh che era un luogo già per loro familiare dove potessero poi mh attivare appunto i nostri laboratori e questo perché eh avevamo visto che c'era un grossissimo scollamento dei legami che una volta erano la parte diciamo vitale di queste comunità eh perché ci sono spesso mh servizi che sono molto centrali rispetto a un territorio montano molto esteso e quindi eh per sua natura spesso le famiglie diciamo compensano la mancante di servizi con una partecipazione civica notevole e questo però chiaramente ha compromesso è stato compromesso dal dall'emergenza pandemica non solo per la necessità di mantenere delle distanze distanziamento fisico ma anche perché tutti i sentimenti si sono venuti a riversare nella collettività e spesso dei legami si sono anche spezzati quindi il nostro tentativo era quello di diciamo di riattivare un pochino le comunità dormienti soprattutto quelle delle famiglie con con i bambini e vista la possibilità del contesto che appunto iniziava ad aprirsi e lo consentiva di far rivivere ai bambini i luoghi della familiarità della quotidianità in cui eh loro prima della pandemia eh vivevano quotidianamente normalmente e quindi questo è stato un po' il nostro tentativo dopo il campo estivo ci siamo detti cioè creiamo qualcosa che sia eh che abbia delle caratteristiche di domiciliarità quindi che siano gli educatori a spostarsi eh dove viene chiesto dalle famiglie e poi abbiamo visto che appunto il concetto di prossimità e di domiciliarità è diventato un concetto eh all'ordine del giorno diciamo nel nei momenti di fase mh dopo lockdown diciamo eh tanto è vero che viene anche ripreso adesso dagli esercizi dai ristoratori piuttosto che dagli esercizi diciamo privati ecco e non solo che sia capace anche di riattivare delle comunità dormienti quindi non aspettandoci di creare eh una comunità partendo da zero perché per noi sarebbe chiaramente stato impossibile eh ma entrando un po' in punta di piedi eh e proponendo una professionalità in contesto normativo sicuro in cambio però di una di una già attivazione eh comunitaria ecco e quindi eh l'idea anche di lavorare sulla periferia perché purtroppo i servizi sono sempre molto centrali e quindi questo comporta in questi territori che le famiglie debbano fare anche lunghe tratte eh per spostarsi in nei servizi educativi che esistono sanitari e questo di fatto snatura un po' la diciamo la la spontaneità dei legami che esistono perché chiaramente c'è chi va eh anche frequenti far frequentare le attività sportive ai bambini in un posto in un altro quindi si scolla un po' tutto e e niente quindi abbiamo attivato insomma questa proposta in un lasso di tempo che era per noi sperimentale quindi luglio e agosto e abbiamo provato a capire un po' come si muovevano le cose di fatto sono state richiesti tre laboratori eh in tre frazioni diversi per un un totale complessivo di di trenta famiglie perché naturalmente ogni laboratorio richiedeva un massimo di partecipazione di eh quindici adulti e noi ci occupavamo appunto del del triage naturalmente eravamo un abbiamo formato una squadra che era sostanzialmente quella del campo estivo perché abbiamo visto che era vincente il poter ehm formulare appunto questa questo staff che era composto da un atelierista un'educatrice e un'esperta di tematiche ambientali perché chiaramente abbiamo cercato di valorizzare quello che il territorio proponeva e quindi eh ci siamo anche un po' eh immersi in questo mondo dell'outdoor education e mh e abbiamo visto che funzionava e quindi abbiamo tenuto lo stesso staff anche per eh gli acchiappa borgo e quindi diciamo che il territorio ehm ed è questo uno degli aspetti sia positivi che negativi eh ha colto con favore diciamo l'iniziativa e certo è che le cautele erano moltissime anche dal punto di vista delle delle amministrazioni che eh in un certo senso ci guardavano un po' dalla finestra eh non hanno né spinto né caldeggiato la partecipazione e né né l'hanno disincentivata proprio perché probabilmente rappresentavano poi anche il sentire comune e di queste delle varie attività che proponevamo e quindi insomma siamo andati un po' eh un po' pionieri anche in solitarie questo è stato un aspetto diciamo critico però allo stesso tempo nelle nei territori in cui siamo intervenuti eh c'erano delle realtà che ci hanno sinceramente detto ad esempio le prologo locali le associazioni che vivevano con con timore perché ehm questo tipo di esperienze per renderne parte attiva richiedeva avere dei protocolli che spesso le associazioni non hanno mh e quindi il fatto di avere da parte nostra una garanzia una professionalità un contesto sicuro con protocolli dispositivi eh eccetera una volta approvato testato con mano ehm si sono aperte ecco hanno bisogno hanno avuto bisogno di vedere che insomma facevamo sul serio anche noi ecco ehm Valentina scusa se ti interrompo hai anche delle slide con delle foto sì sì mi faccio vedere anche le persone a farsi un'idea allora ok si vede sì perfetto sì questo era il volantino che abbiamo diffuso e che conteneva un po' le istruzioni per l'uso diciamo i comuni in cui si a cui si rivolgeva e che abbiamo diffuso e questa eh questo è stato il primo laboratorio che abbiamo attivato eh in una in un comune che si chiama Cavola nell'alto appennino e e le famiglie ci hanno chiesto di realizzarlo in un bosco che avevano adottato i bambini e allestito con giochi costruiti proprio da loro dalle famiglie tra cui il ponte tibetano e i laboratori che abbiamo proposto noi era di abbellimento diciamo dello spazio eh intrecciando con dei semplicemente con dei fili gli alberi del del bosco quindi era un laboratorio molto semplice in realtà non era un intento formativo ma il diciamo l'obiettivo era quello di ricreare delle socialità che si erano perse queste sono le famiglie il tavolo centrale sono loro eh è questo tavolino diciamo dove loro di solito fanno le riunioni intrafamigliari questo invece valestra che tra l'altro è il la frazione dove dove vivo io dove abbiamo proposto invece delle casette per gli ignomi ecco sui contenuti anche le famiglie potevano intervenire noi facevamo chiaramente delle proposte e poi loro potevano scegliere che cosa realizzare e questo è il giardino della della chiesa del paese anche questo luogo scelto dalle famiglie per ragioni di praticità perché era centrale rispetto al borgo e disponevamo di tutti i materiali in modo da garantire di da evitare l'assembramento tra l'altro qui c'è un cartello che eh le famiglie questo per dirvi un pochino che cosa significa cioè come si traduce la partecipazione civica in questi luoghi questo è un cartello dove si è stato chiesto di all'amministrazione di di mettere eh poco prima dell'inizio della pandemia dove si chiede le alle macchine di di rallentare in passaggio perché i bambini giocano ancora per strada in questo paese quindi anche questo è stato frutto di una loro richiesta questo è sempre nel cartello della chiesa si alternava sempre la lettura del laboratorio di recupero con la lettura questo invece è stato realizzato a Felina nel comune di Castelnuovo Monti in un castello che è molto frequentato dalle famiglie e viene chiamato comunemente eh il salame di Felina e qui hanno realizzato appunto dei fiori l'intentativo era quello di abbellire degli spazi che loro già utilizzano abitualmente e la rivista diciamo locale che si chiama Tutto Montagna ci ha chiesto appunto di fare un'intervista rispetto a questa esperienza e eh e ci ha dato anche lo spazio di una promozione adesso non so se scrivere su Redacon che invece è un portale online sempre dell'Apennino Reggiano uno spazio lo spazio di un articolo promozionale ora eh ok siamo a dodici minuti siamo a dodici minuti non so se come siete divisi con Katia allora scusate che provo a rientrare ok si vede ancora lo schermo? no a posto ok eh no io volevo solo aggiungere il il fatto che questa esperienza per per la prima volta diciamo nessuno ci ha chiesto non sentevamo la la spada di Damocle dei dei numeri e penso che per un po' rimarrà anche questa questa prospettiva di di non richiesta da parte le istituzioni di fare grandi numeri e qui e questo ci consente probabilmente di lavorare più sulla sulla qualità perché eh fino a prova contraria ehm nel piccolo sta il buono e quindi credo che sia una delle delle diciamo dei punti fermi del nostro intervento sociale e il fatto anche di avere una multidisciplinarità eh è stato un valore aggiunto quindi un atelierista che ha un linguaggio eh artistico congiunta con un'educatrice che invece ha uno sguardo più chiaramente eh psicoeducativo e niente e il un altro aspetto purtroppo invece negativo su cui ci dovremo interrogare è il fatto che siano esperienze molto volubili molte famigli che hanno detto esplicitamente che hanno partecipato perché di fatto non c'era nient'altro in quella fase di possibile e in un certo senso è stato positivo perché abbiamo raggiunto famiglie che non avremmo mai raggiunto d'altra parte invece probabilmente ci dobbiamo interrogare su sul futuro quando diciamo ci sarà un livello di concorrenza di altre iniziative di altro genere come potremmo recuperare queste relazioni io ho terminato resto in attesa poi dopo disponibile per le altre domande grazie Valentina e terminevo l'intervento con Katia sì allora che mi presento sì mi sentite bene perfetto sì allora appunto come diceva Massimiliano io sono una psicologa e correndo un po' i servizi della cooperativa research e quello che volevo raccontarvi io è un po' il lavoro di cucitura di accompagnamento che è stato fatto dietro tutto questo progetto nel senso che appunto come diceva Valentina uscivamo da una fase di lockdown di ripensamento una fase di riprogettazione un po' nuova dei campi estivi dove ci trovavamo un po' essere pionieri di fronte alla riapertura di servizi educativi e questo ci ha portato però ad avere una buona esperienza che poteva darci lo slancio per proporre la chiappa borgo però cosa succedeva appunto che noi avevamo questo bisogno continuo di ascoltare i dubbi e le proposte del territorio nel senso che c'era appunto come diceva Valentina la parte di persone spinta a procedere e a ricominciare a vivere qualcuno che ci chiedeva di ritornare a come eravamo e qualcuno che aveva molta paura quindi tutto quello che noi pensavamo e tutto quello che ci veniva in mente doveva comunque sempre avere a che fare col sentore del territorio e con le emozioni che portavano i cittadini anche perché il senso era quello di costruire insieme qualcosa se avessimo proposto dei progetti o troppo spinti o troppo chiusi probabilmente non avrebbero tanto funzionato e non era neanche il nostro senso il nostro senso era quello di provare a esplorare dei mondi nuovi che purtroppo il covid ci ha portato quindi questo ascolto continuo diciamo delle persone e del cittadino insieme a questo però avevamo bisogno anche molto di ascoltarci come operatori tutto il lavoro anche di rimotivazione degli operatori che si sono trovati a riorientarsi rispetto non solo agli obiettivi di lavoro pensiamo ad un atelierista da noi gli atelieristi lavorano nel midi nelle scuole dell'infanzia è proprio un tipo di lavoro fatto per approfondire e supportare l'apprendimento dei bambini apprendimento sociale educativo di contenuto dentro dei contesti molto come dire conosciuti che sono i contesti delle scuole dove a volte ci sono le famiglie a volte no perché ci sono anche delle appartenenze diciamo delle attività che vengono svolte con loro quindi l'atelierista si è trovato a doversi un po reinventare rispetto a quello che è subiettivo non più soltanto di supporto all'apprendimento artistico ma stare dentro al nostro pensiero anche di legare una parte della socialità che lui ha presente o lei ha presente ma in questo caso era la motivazione principale oltre al fatto di ritrovarsi in una situazione di come dire movimento lavorativo un po precario nel senso che appunto alcuni di noi hanno vissuto dei momenti di stop lavorativo quindi anche rimotivarsi rispetto a questa cosa non è stato semplice quindi il lavoro che abbiamo fatto è anche quello proprio di confrontarci tanto e in qualche modo di supportarci a vicenda c'erano dei momenti in cui qualcuno di noi era un po down altri momenti in cui invece era un po up e provavamo a bilanciarci questa equip di lavoro che descriveva Valentina comprendeva di fatto anche lei che era coordinava e spronava anche questo gruppo di lavoro e comprendeva anche a me che invece facevo l'aggancio con la parte diciamo più burocratica che non è indifferente nel senso che appunto noi abbiamo fatto questa proposta come cooperativa quindi senza altro tipo di fondi se non un piccolissimo contributo che le famiglie davano quindi ci siamo trovati a decidere se questo progetto poteva essere autofinanziato o finanziato dalla cooperativa ci siamo chiesti il senso che aveva a proporre questa cosa quindi abbiamo lasciato da parte e deciso che il guadagno non era il guadagno economico non era il nostro obiettivo principale nonostante noi siamo una cooperativa e quindi dobbiamo anche vivere di quello ma era un guadagno di metodologia di lavoro di approfondimento anche delle nostre competenze e di rapporto con un territorio nuovo e anche per scoprire nuovi spazi in cui potevamo poi riorientarci quindi abbiamo preso questa decisione nonostante la fatica anche del non guadagnare nel senso economico andavamo avanti in questo in questo modo il guadagno relazionale ci è sembrato maggiore ma questa è una decisione che abbiamo dovuto prendere assieme poi c'è stata tutta la parte delle strategie organizzative appunto l'atelierista, l'educatrice e la biologa affrontavano il tema del laboratorio Valentina si è occupata della parte della sicurezza cioè svincolare loro dalla parte del triage delle iscrizioni del prendere anche le autorizzazioni per la privacy tutta quella serie di parti burocratiche che soltamente ci appesantiscono ma che facciamo sempre in contemporanea i nostri progetti abbiamo pensato di lasciarla ad una persona sola proprio per alleggerire l'idea che lo stare insieme in un modo, in un mondo diverso potesse essere meno pesante per cui quella parte lì l'ha fatta Valentina che comportava anche l'andare a visitare i luoghi prima a vedere come erano composti gli spazi come poter creare il distanziamento questo permetteva alle altre tre operatrici di stare sul contenuto, sulla relazione sulle domande che facevano le persone quindi abbiamo un po' suddiviso a quello che solitamente all'interno di noi facciamo invece in modo continuativo e questo è stato un lavoro continuo che ha significato che però l'equipe di lavoro si è dovuta confrontare quotidianamente cioè io non propongo vi faccio così un esempio molto banale non propongo la pasta di sale perché la devono toccare tutti quindi questa cosa io non la posso proporre perché ho presente che c'è questo contenuto di sicurezza non posso come dire restituire alcune immagini perché alcune famiglie non ci hanno dato l'autorizzazione a fare le fotografie o a in qualche modo condividerle quindi tutta questa parte va comunque sempre tenuta presente però per non perdere l'obiettivo del nostro lavoro che era quello della socialità non doveva essere preponderante e nell'epoca del covid questa parte tende a essere molto forte cioè tendiamo a costruire dei servizi che si possano fare dentro a tutta questa serie di regole abbiamo provato a ribaltare le cose cioè proviamo a proporre un servizio e la parte come dire che tende solitamente a dare un limite viene gestita in modo che sia invece una possibilità la possibilità è stata utilizzare degli spazi che forse in altri momenti non avremmo mai utilizzato andare per boschi magari non l'avremmo pensato in un altro momento quindi abbiamo dovuto in qualche modo rileggere anche le nostre proposte progettuali questo l'abbiamo fatto sia durante che dopo cioè rileggere anche gli aspetti positivi di quello che comunque a questo momento difficile ci ha portato perché se non lo facciamo perdiamo questa esperienza in realtà appunto lo stare fuori è diventata quasi una modalità nuova che avevamo magari anche tempo fa e che adesso stiamo cercando di arricchire quindi tutte queste scelte tutte queste riflessioni le abbiamo continuamente condivise nell'equip di lavoro e documentate tutto il processo è stato documentato è stata data una restituzione alle famiglie ed è stata data una restituzione agli operatori e alla comunità in modo che non rimanesse una riflessione solo per chi aveva frequentato l'attività ma volesse essere anche in qualche modo una rilettura proprio che potesse essere vissuta anche dai paesi che erano stati coinvolti come occasione per rilanciare altre occasioni che magari non erano in capo a noi quindi persone che hanno fatto con noi questo tipo di laboratori o che hanno letto l'articolo magari poi autonomamente hanno fatto altre proposte e questi sono un po' gli effetti collaterali secondari che noi a volte non abbiamo presente ma che per noi erano importanti quindi la documentazione aveva anche un po' questa possibilità di rilanciare il territorio in autonomia le strategie comunicative che abbiamo utilizzato sono state continuamente riviste perché potevano essere sbagliate rispetto al momento quindi dovevano essere in qualche modo tranquillizzate rispetto al tema della sicurezza ma anche rafforzare il fatto che comunque nella sicurezza c'erano tante altre possibilità quindi anche la scelta per esempio della grafica del volantino piuttosto che la comunicazione scritta che verbale è stata tutta improntata all'idea di sostenere proprio anche questa visione un po' più leggera della situazione questa bambina che pesca al borgo era proprio quello che noi volevamo volevamo presentare diciamo che la parte quindi che ci ha occupato tanto è stata anche la gestione degli aspetti emotivi sia nostri gli operatori quindi questi rilanci continui anche dei nostri stati diciamo di difficoltà che per esempio erano anche legati al fatto che non solo ci spostavamo sui territori ma dovevamo raggiungere territori inesplorati a volte ci volevano un sacco di tempo per arrivarci qualcuno di noi aveva bisogno della mappa perché non era semplice non c'era mai stato quindi è stata anche per noi una sfida notevole sia in termini di sfasamento proprio dei nostri soliti spazi di lavoro cambiamento di obiettivi ma abbiamo dovuto lavorare anche tanto secondo me ma secondo noi ad accettare la possibilità dell'errore quindi accettare la possibilità che questo progetto non piacesse che magari ci fosse qualcuno che fosse contrario noi abbiamo provato a prevedere tutta una serie di cose vi dico abbiamo avvisato anche le forze dell'ordine i carabinieri prima di svolgere l'attività mandavamo una mail al sindaco del comune o comunque l'ufficio tecnico ai carabinieri per dire se vedete un gruppo di persone quel tal giorno siamo noi siamo a questa cooperativa abbiamo messo a disposizione queste modalità non è un assembramento proprio perché avevamo bisogno di tutelare più possibile questo tipo di non solo di laboratorio ma anche di sicurezza di noi operatori perché era importante che l'esperienza venisse letta in un certo modo sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista dell'opportunità e diciamo che avere presente quali potevano essere i momenti di sfida gli aspetti positivi gli aspetti negativi e anche quali strumenti avevamo a disposizione o quali strumenti ci siamo dovuti inventare per esempio avvisare i carabinieri era una cosa che abbiamo messo in campo magari cose che in altri momenti non avremmo fatto e diciamo l'ultima cosa che voglio dirvi che questa rilettura che abbiamo fatto durante questo periodo che ci è servita poi anche per riproporre un progetto simile ma in un contesto diverso che era il centro per le famiglie dell'Unione Colline Matildiche in cui abbiamo riproposto alcuni appuntamenti di laboratorio per l'ingresso alla scuola elementare ci ha permesso di rielaborare questa esperienza e diciamo l'ultima rielaborazione che abbiamo fatto è stata quella per oggi per questo convegno e quindi ci ha ripermesso di nuovo di riprendere in mano anche questi aspetti diciamo legati proprio anche la parte emotiva di noi operatori che siamo passati dalla fatica alla paura oddio cosa succede cosa ci diranno come leggeranno questo progetto all'essere invece contenti comunque di aver fatto una proposta differente piccola molto minuta e poterla condividere anche con voi per capire appunto quali prospettive future possiamo avere per non lasciarci fermare da quelli che possono essere stati i primi sentimenti di oddio adesso non riusciamo più a fare niente in realtà c'è stata tutta un'evoluzione e quello che abbiamo proprio colto è che si possono fare davvero tante cose diverse da prima alcune diverse alcune simili ma questo ci ha permesso di crescere anche molto come secondo me come apprendimento di operatori di fronte a un contesto che ti cambia e nel quale comunque se accetti la sfida è davvero entusiasmante cioè ti svegliavi al mattino e dici che bello oggi facciamo questa cosa ok questa secondo me è stata una parte per noi rimotivante e molto importante